6. Tac tac tac. Lei sola, là dentro, quella pallottola d'avorio, correndo graziosa nella roulette in senso inversa al quadrante, pareva giocasse. Tac tac tac. Lei sola, non certo quelli che la guardavano, sospesi nel supplizio che cagionava loro il capriccio di essa, a cui, ecco, sotto, sui quadranti gialli del tavoliere, tante mani avevano recato, come in offerta votiva, oro, oro e oro, tante mani che tremavano adesso nell'attesa angosciosa, palpando inconsciamente altro oro, quella della prossima posta, mentre gli occhi supplici pareva dicessero dove a te piaccia, dove a te piaccia di cadere, graziosa pallottola d'avorio, nostra dea crudele. Ero capitato là, a Monte Carlo per caso. Dopo una delle solite scene che mia suocere e mia moglie, che ora, oppresso e fiaccato com'ero dalla doppia recente sciagura, mi cagionavano un disgusto intollerabile, non sapendo più resistere alla noia, anzi, allo schifo di vivere a quel modo. Miserabile, senza né probabilità né speranza di miglioramento, senza più il conforto che mi veniva dalla mia dolce bambina, senza alcun compenso, anche minimo all'amarezza, allo squallore, all'orribile desolazione in cui ero piombato. Per una risoluzione quasi improvvisa, ero fuggito dal paese a piedi con le 500 lire di Berto in tasca. Avevo pensato, via facendo, di recarmi a Marsiglia, dalla stazione ferroviaria del paese vicino, a cui mi ero diretto. Giunto a Marsiglia, mi sarei imbarcato, magari con un biglietto di terza classe, per l'America, così all'avventura. Che avrebbe potuto capitarmi di peggio? Alla fin fine di ciò che avevo sofferto e soffrivo a casa mia? Sarei andato incontro, sì, ad altre catene, ma più gravi di quella che già stavo per strapparmi dal piede non mi sarebbero certo sembrate. E poi avrei veduto altri paesi, altre genti, altra vita, e mi sarei sottratto almeno all'oppressione che mi soffocava e mi schiacciava. Se non che, giunto a Nizza, mi ero sentito cader l'animo. Gli impeti, i miei giovanili, erano abbattuti da un pezzo. Troppo ormai la noia mi aveva attarlato dentro e svigorito il cordoglio. L'avvilimento maggiore mi era venuto dalla scarsezza del denaro con cui avrei dovuto avventurarmi nel buio della sorte. Così lontano, incontro a una vita affatto ignota e senza alcuna preparazione. Ora, sceso a Nizza, non ben risoluto ancora di ritornare a casa, girando per la città, mi era avvenuto di fermarmi innanzi a una guerre che ricava questa insegna a grosse lettere dorate. Vennero esposte d'ogni dimensione, con altri attrezzi del gioco e vari opuscoli che avevano sulla copertina il disegno della roulette. Si sa che gli infelici facilmente diventano superstiziosi. Per quanto poi deridono l'altrui credulità e le speranze che a loro stessi la superstizione certe volte fa d'improvviso concepire e che non vengono mai a effetto, si intende. Ricordo che io, dopo aver letto il titolo d'uno di quegli opuscoli, méthode pour gagner à la roulette, mi allontanai dalla bottega con un sorriso sdegnoso e di commiserazione. Ma, fatti pochi passi, tornai indietro e, per curiosità via, non per altro, con quello stesso sorriso sdegnoso e di commiserazione sulle labbra, entrai nella bottega e comprai quell'opuscolo. Non sapevo affatto di che si trattasse, in che consistesse il gioco e come fosse congegnato. Mi misi a leggere, ma ne compresi ben poco. Forse dipende, pensai, perché non so molto io di francese? Nessuno me l'aveva insegnato. Avevo imparato da me qualche cosa, così le giucchiando nella biblioteca. Non ero poi per nulla sicuro della pronunzia e temevo di far ridere parlando. Questo timore, appunto, mi rese dapprima perplesso, se andare o no, ma poi pensai che mi ero partito per avventurarmi fino in America, sprovvisto di tutto e senza conoscere neppure di vista l'inglese o lo spagnuolo. Dunque via, con quel po' di francese di cui potevo disporre e con la guida di quello puscolo, fino a Monte Carlo, lì a due passi avrei potuto bene avventurarmi. Né mia suocera né mia moglie, dicevo fra me, in treno. Sanno di questo po' di denaro che mi resta in portafogli. Andrò a buttarlo lì, per togliermi ogni tentazione. Spero che potrò conservare tanto da pagarmi il ritorno a casa, e se no... Avevo sentito dire che non difettavano alberi, solidi, nel giardino attorno alla visca. In fin dei conti, magari, mi sarei appeso economicamente a qualcuno di essi, con la cintola dei calzoni e ci avrei fatto anche una bella figura. Avrebbero detto, chissà quanto avrà perduto questo povero uomo. Mi aspettavo di meglio, dico la verità. L'ingresso, sì, non c'è male. Si vede che hanno avuto quasi l'intenzione di innalzare un tempio alla fortuna, con quelle otto colonne di marmo. Un portone a due porte laterali. Su queste era scritto, tiré, e fin qui ci arrivavo. Arrivai anche al poussé del portone, che evidentemente voleva dire il contrario. Spinsi ed entrai. Pessimo gusto. E fa dispetto. Potrebbero almeno offrire a tutti coloro che vanno a lasciare lì tanto denaro, la soddisfazione di vedersi scorticati in un luogo mensontuoso e più bello. Tutte le grandi città si compiacciano adesso di avere un bel mattatoio per le povere bestie, le quali pure, prive come sono d'ogni educazione, non possono goderne. È vero tuttavia che la maggior parte della gente che va lì ha ben altra voglia che quella di badare al gusto della decorazione di quelle cinque sale. Come coloro che seguono su quei divani, giro giro, non sono spesso in condizione di accoggersi della dubbia eleganza dell'imbottitura. Vi seguono, di solito, certi disgraziati cui la passione del gioco ha sconvolto il cervello nel modo più singolare. Stanno lì a studiare il cosiddetto equilibrio delle probabilità e meditano seriamente i colpi da tentare. Tutta un'architettura di gioco, consultando appunti sulle vicende dei numeri, vogliono insomma estrarre la logica dal caso, come dire, il sangue dalle pietre. E sono sicurissimi che oggi o domani vi riusciranno. Ma non bisogna meravigliarsi di nulla. Ah, il dodici, il dodici, mi diceva un signore di Lugano, pezzo d'omone la cui vista avrebbe suggerito le più consolanti riflessioni sulle resistenti energie della razza umana. Il dodici è il re dei numeri, ed è il mio numero. Non mi tradisce mai. Si diverte, sì, a farmi dispetti, magari spesso, ma poi, alla fine, mi compensa, mi compensa sempre della mia fedeltà. Era innamorato del numero dodici, quell'omone lì, e non sapeva più parlare d'altro. Mi raccontò che il giorno precedente, quel suo numero, non aveva voluto sortire né per una volta. Ma lui non si era dato per vinto. Volta per volta, ostinato, la sua posta sul dodici, era rimasto sulla breccia fino all'ultimo, fino all'ora in cui i copiè annunzano «Monsieur, au trois derniers». Ebbene, al primo di quei tre ultimi colpi, niente. Niente neanche al secondo. Al terzo e ultimo, paffete, il dodici. «M'ha parlato!» concluse con gli occhi brillanti di gioia. «M'ha parlato!» E' vero che, avendo perduto tutta la giornata, non gli erano restati per quell'ultima posta che pochi scudi, di modo che, alla fine, non aveva potuto rifarsi di nulla. Ma che gli importava? Il numero dodici gli aveva parlato. Sentendo questo discorso, mi vennero a mente quattro versi del povero Pinzone, il cui cartolare dei bisticci col seguito delle sue rime balzane, rinvenuto durante lo sgombro di casa, sta ora in biblioteca, e voglio recitargli a quel signore. «Ero già stanco di stare alla bada della fortuna. La dea capricciosa dovea pur passare per la mia strada. E passò finalmente, matignosa!» E quel signore allora si prese la testa con tutte e due le mani e contrasse dolorosamente a lungo tutta la faccia. Lo guardai prima sorpreso, poi costernato. «Che era?» «Niente! Rido!» Mi rispose. Rideva così. Gli faceva tanto male, tanto male la testa, che non poteva soffrire lo scottimento del riso. «Andate ad innamorarvi del dodici!» Prima di tentare la sorte, benché senza alcuna illusione, vogli stare un pezzo a osservare per rendermi conto del modo con cui procedeva il gioco. Non mi parve affatto complicato, come il mio puscolo mi aveva lasciato immaginare. In mezzo al tavoliere, sul tappeto verde numerato, era incassata la roulette. Tutti intorno, i giocatori, uomini e donne, vecchi e giovani, d'ogni paese e d'ogni condizione, parte seduti, parte in piedi, si affrettavano nervosamente a disporre mucchi e mucchietti di Luigi e di scudi e biglietti di banca, sui numeri gialli dei quadrati. Quelli che non riuscivano ad accostarsi o non volevano, dicevano al croupier i numeri e i colori su cui intendevano di giocare, e il croupier, subito, col rastrello, disponeva le loro poste secondo l'indicazione, con meravigliosa destrezza. Si faceva silenzio, un silenzio strano, angoscioso, quasi vibrante, di frenate violenze, rotto di tratto in tratto dalla voce monotona sonnolente dei croupier. Monsieur, faites vos jeux. Mentre di là, presso altri tavolieri, altre voci, ugualmente monotono, dicevano, le jeux et faites, rien ne va plus. Alla fine, il croupier lanciava la pallottola sulla roulette, tac, 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 e tutti gli occhi si volgevano a lei con varia espressione, d'ansia, di sfida, d'angoscia, di terrore. Qualcuno fra quelli rimasti in piedi, dietro coloro che avevano avuto la fortuna di trovare una seggiola, si sospingeva per intravedere ancora la propria posta prima che i rastrelli dei croupier si allungassero ad arraffarla. La ball, alla fine, cadeva sul quadrante e il croupier ripeteva con la solita voce la formula d'uso e annunziava il numero sortito e il colore. Arrischiai la prima posta di pochi scudi sul tavoliere di sinistra, nella prima sala, così a casaccio, sul 25, e stette anch'io a guardare la perfida pallottola, ma sorridendo per una specie di bellicazione interna, curiosa al ventre. Cade la ball sul quadrante e, 25, annunzia il croupier, rouge, imper, et pesse. Avevo vinto. Allungavo la mano sul mio mucchietto moltiplicato quando un signore altissimo di statura, dalle spalle poderose troppo in su, che reggevano una piccola testa con gli occhiali d'oro sul naso rincagnato, la fronte sfuggente, i capelli lunghi e lisci sulla nuca, tra biondi e grigi, come il pizzo e i baffi, me la scostò senza tante cerimonie e si prese lui il mio denaro. Nel mio povero e timidissimo francese, vogli fargli notare che aveva sbagliato, o certo, involontariamente. Era un tedesco e parlava il francese peggio di me, ma con un coraggio da leone mi si scagliò addosso, sostenendo che lo sbaglio invece era mio e che il denaro era suo. Mi guardai attorno, stupito, nessuno fiatava, neppure il mio vicino, che pur mi aveva veduto posare quei pochi scudi sul venticinque. Guardai i croupets immobili, impassibili, come statue. Ah sì? Dissi tra me e me e, quietamente, mi tirai sulla mano gli altri scudi che avevo posato sul tavolino innanzi a me e me la filai. Ecco un metodo, pur gagné alla roulette, pensai, che non ho contemplato nel mio puscolo e chissà che non sia l'unico in fondo. Ma la fortuna, non so per quali suoi fini segreti, volle darmi una solenne e memorabile smentita. Appressatomi a un altro tavoliere, dove si giocava forte, stetti prima un buon pezzo a squadrar la gente che vi stava attorno. Erano per la maggior parte signori massina. C'eran parecchie signore, più d'una mi parvi equivoca. La vista di un certo metto biondo biondo, dagli occhi grossi, ceruli, venati di sangue e contornati da lunghe ciglia quasi bianche, non ma fidò molto in prima. Era in marsina anche lui, ma si vedeva che non era solito di portarla. Vogli vederlo alla prova. Puntò forte, perdette. Non si scompose. Ripuntò anche forte al colpo seguente. Via, non sarebbe andato appresso ai miei quattrinucci. Benché di prima colta avessi avuto quella scottatura, mi vergognai del mio sospetto. C'era tanta gente là che buttava manate, oro e argento come fossero rena, senza alcun timore. E dovevo temere io per la mia miseriola? Notai fra gli altri un giovinetto, pallido come di cera, con un grosso monocolo all'occhio sinistro, il quale affettava un'aria di sonnolenta indifferenza. Sedeva scompostamente. Tirava fuori dalla tasca dei calzoni i suoi luigi, li posava a casaccio su un numero qualunque e, senza guardare, pinzandosi i peli dei baffetti nascenti, aspettava che la bolle cadesse. Domandava allora al suo vicino se aveva perduto. Lo vidi perdere sempre. Quel suo vicino era un signore magro, elegantissimo, sui quarant'anni, ma aveva il collo troppo lungo e gracile ed era quasi senza mento, con un paio d'occhietti neri, vivaci e bei capelli corvini, abbondanti, rialzati sul capo. Godeva evidentemente nel rispondere di sì al giovinetto. Egli qualche volta vinceva. Imposi accanto a un grosso signore dalla carnagione così bruna che le occhiaie e le palpebre gli apparivano come affumicate. Aveva i capelli grigi, ferruginei e il pizzo ancora quasi tutto nero e ricciuto. Spirava forza e salute, eppure come se la corsa della pallottola d'avoria gli promuovesse l'asma. Egli si metteva ogni volta ad arrangolare, forte, irresistibilmente. La gente si voltava a guardarlo, ma raramente egli se ne accorgeva. Smetteva allora per un istante, si guardava attorno con un sorriso nervoso e tornava ad arrangolare, non potendo farne a meno, finché la ball non cadeva sul quadrante. A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi andarono male, poi cominciai a sentirmi come in uno stato d'ebrezza estrosa, curiosissima. Agivo quasi automaticamente, per improvvise, incoscienti ispirazioni. Puntavo ogni volta dopo gli altri, all'ultimo là. E subito acquistavo la coscienza e la certezza che avrei vinto. E vincevo. Puntavo dapprima poco, poi man mano, di più, di più senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, né si intorpidava per qualche colpo fallito, perché mi pareva di averlo quasi preveduto. Anzi, qualche volta dicevo tra me, ecco, questo lo perderò. Debo perderlo. Ero come elettrizzato. A un certo punto ebbi l'ispirazione di arrischiar tutto. La, e addio. E vinsi. Gli orecchi mi ronzavano. Ero tutto in sudore e gelato. Mi parve che uno dei croupier, come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell'esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo di quell'uomo come una sfida. Gli arrischiai tutto di nuovo. Quel che avevo di mio e quel che avevo vinto. Senza pensarci due volte. La mano mi andò sullo stesso numero di prima, il 35. Fui per ritirarla. Ma no, lì. Lì, di nuovo. Come se qualcuno me l'avesse comandato. Chiusi gli occhi. Dovevo essere pallidissimo. Si fece un gran silenzio. E mi parve che si facesse per me solo. Come se tutti fossero sospesi nell'ansia mia terribile. La ball girò. Girò un'eternità. Con una lentezza che esasperava di punto in punto l'insostenibile tortura. Al fine cadde. Ma aspettavo che il croupier con la solita voce, mi parve lontanissima, dovesse annunziare Transing Noir Imper et Pes. Presi il denaro e dovete allontanarmi come un ubriaco. Cadi a sedere sul divano, sfinito. Appoggiai il capo alla spalliera, per un bisogno improvviso irresistibile di dormire, di ristorarmi con un po' di sonno. E già quasi vi cadevo, quando mi sentii addosso un peso, un peso materiale, che subito mi fece riscuotere. Quanto avevo vinto. Apri gli occhi, ma dovetti richiuderli. Immediatamente. Mi girava la testa. Il caldo là dentro era soffocante. Come? Era già sera. Avevo intraveduto i lumi accesi. E quanto tempo avevo dunque giocato. Mi alzai pian piano, uscii. Fuori, nell'atrio, era ancora giorno. La freschezza dell'aria mi rinfrancò. Parecchia gente passeggiava lì. Alcuni meditabondi, solitari, altri, a due, a tre, chiacchierando e fumando. Io osservavo tutti. Nuovo del luogo, ancora impacciato. Avrei voluto parere anch'io almeno un poco come di casa, e studiavo quelli che mi parevano più disinvolti. Se non che, quando meno me l'aspettavo, qualcuno di questi, ecco, impallidiva, fissava gli occhi, ammutoliva. Poi buttava via la sigaretta e, tra le rise dei compagni, scappava via. Rientrava nella sala da gioco. Perché ridevano i compagni? Sorridevo anch'io, istintivamente, guardando come uno scemo. A toi, mon chéri, sentii dirmi. Piano, da una voce femminile, un po' rauca. Mi voltai e vidi una di quelle donne che già sedevano con me attorno al tavoliere, porgermi sorridendo una rosa. Un'altra ne teneva per sé. Le aveva comperate, orora, al banco di fuori, là, nel vestibolo. Avevo dunque l'aria così goffa e dall'occo? Ma salì una stizia violenta. Rifiutai senza ringraziare e feci per scostarmi da lei. Ma ella mi prese ridendo per un braccio e, affettando con me innanzo agli altri un tratto confidenziale, mi parlò piano, affrettatamente. Mi parve di comprendere che mi proponesse di giocare con lei, avendo assistito poc'anzi ai miei colpi fortunati. Ella, secondo le mie indicazioni, avrebbe puntato per me e per lei. Mi scrollai tutto, sdegnosamente, e la piantai lì in asso. Poco dopo, rientrando nella sala da gioco, la vidi che conversava con un signore bassotto, bruno, barbuto, con gli occhi un po' loschi, spagnuolo, all'aspetto. Gli aveva dato la rosa poc'anzi offerta a me, a una certa mossa d'entrambi, ma corsi che parlavano di me, e mi misi in guardia. Entrai in un'altra sala, ma costai al primo tavoliere, ma senza intenzione di giocare, ed ecco, ivi a poco, quel signore, senza più la donna, accostarsi anche lui al tavoliere, ma facendo le viste di non accorgersi di me. Mi posi allora a guardarlo risolutamente per fargli intendere che mi ero bene accorto di tutto e che, con me, dunque, l'avrebbe sbagliata. Ma non aveva affatto l'apparenza di un marivolo costui. Lo vidi giocare, è forte. Perdette tre colpi consecutivi. Batteva ripetutamente le palpebre, forse per lo sforzo che gli costava la volontà di nascondere il turbamento. Al terzo colpo fallito mi guardò e sorrise. Lo lasciai lì e ritornai nell'altra sala, al tavoliere dove di anzi avevo vinto. I croupiers si erano dati il cambio. La donna era lì al posto di prima. Mi teni addietro per non farmi scorgere e vidi che giocava modestamente e non tutte le partite. Mi feci innanzi, e la mi scorse, stava per giocare e si trattenne, aspettando evidentemente che giocassi io, per puntare dove io puntavo. Ma aspettò in vano. Quando il croupier disse «le jeu est fait», rien ne va plus. La guardai ed ella alzò un dito per minacciarmi scherzosamente. Per parecchi giri non giocai. Poi, eccitatomi di nuovo alla vista degli altri giocatori e sentendo che si rascendeva in me l'estro di prima, non badai più a lei e mi rimisi a giocare. Per qual misterioso suggerimento seguivo così, infallibilmente, la variabilità imprevedibile dei numeri e nei colori? Era solo prodigiosa divinazione? Nell'incoscienza la mia? E come si spiegano allora certe ostinazioni pazze, addirittura pazze, il cui ricordo mi desta i brividi ancora, considerando che io cimentavo tutto, tutto? La vita forse anche in quei colpi che erano vere e proprio sfide alla sorte? No, no. Io ebbi proprio il sentimento di una forza quasi diabolica in me. In quei momenti, per cui domavo, affascinavo la fortuna, legavo al mio il suo capriccio. E non era soltanto in me questa convinzione. Si era anche propagata negli altri rapidamente. E ormai quasi tutti seguivano il mio gioco rischiosissimo. Non so per quante volte passò il rosso su cui mi ostinavo a puntare. Puntavo sullo zero e sortiva lo zero. Fin anche quel giovinetto che tirava i Luigi dalla tasca dei calzoni si era scosso e infervorato. Quel grosso signore Bruno arrangolava che mai. L'agitazione cresceva di momento in momento attorno al tavoliere. Erano fremiti d'impazienza, scatti di brevi gesti nervosi, un furor contenuto astento, angoscioso e terribile. Gli stessi croupiers avevano perduto la loro rigida impassibilità. A un tratto, di fronte a una puntata formidabile, ebbi come una vertigine. Sentii gravarmi addosso una responsabilità tremenda. Ero poco men che digiuno dalla mattina e vibravo tutto. Tremavo dalla lunga violenta emozione. Non potei più resistervi e, dopo quel colpo, mi ritrassi vacillante. Sentii afferrarmi per un braccio. Concitatissimo, con gli occhi che gli schizzavano fiamme, quello spagnoletto barbuto e atticciato, voleva a ogni costo trattenermi. Ecco, erano le undici e un quarto. I croupiers invitavano ai tre ultimi colpi. Avremmo fatto saltare la banca. Mi parlava in un italiano bastardo, comicissimo, poiché io, che non connettevo già più, mi ostinavo a rispondergli nella mia lingua. No, no, basta, non ne posso più, mi lasci andare, caro signore. Mi lasciò andare, ma mi venne appresso. Salì con me nel treno di ritorno in Nizza e volle assolutamente che cenassi con lui e prendessi poi alloggio nel suo stesso albergo. Non mi dispiacque molto dapprima l'ammirazione quasi timorosa che quell'uomo pareva felicissimo di tributarmi, come a un taumaturgo. La vanità umana non ricusa talvolta di farsi piedistallo, anche di certa stima che offende, e l'incenso acre e pestifero di certi indegni e meschini turiboli. Ero come un generale che avesse vinto una sprissima e disperata battaglia, ma per caso, senza sapere come, già cominciavo a sentirlo, a rientrare in me e man mano cresceva il fastidio che mi recava la compagnia di quell'uomo. Tuttavia, per quanto facessi, appena sceso a Nizza non riuscì di liberarmene. Dovete andare con lui a cena e allora egli mi confessò che me l'aveva mandata lui, là, nell'atrio del casino, quella donnetta allegra, alla quale da tre giorni egli appiccicava le ali per farla volare, almeno terra terra. Ali di biglietti di banca. Dava cioè qualche centinaio di lire per farle tentare la sorte. La donnetta aveva dovuto vincere bene quella sera, seguendo il mio gioco, giacché all'uscita non si era più fatta vedere. Che podo far? La povera avrà trovato de' meglio. Sono vecchio io e agradecio Dio antes che me la son levada de' sobre. Mi disse che era a Nizza da una settimana e che ogni mattina si era ricato a Monte Carlo, dove aveva avuto sempre, fino a quella sera, una disdetta incredibile. Voleva sapere come io facessi avvincere. Dovevo certo aver capito il gioco e possedere qualche regola infallibile. Mi misi a ridere e gli risposi che fino alla mattina di quello stesso giorno non avevo visto neppure dipinta una roulette e che non solo non sapevo affatto come ci si giocasse, ma non sospettavo nemmeno lontanamente che avrei giocato e vinto a quel modo. Ne ero stordito e abbagliato più di lui. Non si convinse. Tanto è vero che, girando abilmente il discorso, credeva senza dubbio di aver da fare con una birba matricolata. E parlando con meravigliosa disinvoltura, in quella sua lingua mezzo spagnuolo e mezzo Dio sa che cosa, venne a farmi la stessa proposta a cui aveva tentato di tirarmi nella mattinata col gancio di quella donnetta allegra. Ma no, scusi, esclama io, cercando tuttavia ad attenuare con un sorriso il risentimento. Può ella sul serio ostinarsi a credere che per quel gioco là ci possono essere regole o si possa avere qualche segreto? Ci vuole fortuna. Ne ho avuta oggi, potrò non averne domani o potrò anche averla di nuovo, spero di sì. Ma porquè, lei mi domandò, non ha voluto oggi approvviciarsi della sua fortuna? Io a prove? Sì, come puoi dire, avvantaggiarsi, voilà. Ma secondo i miei mezzi, caro signore. Bien, disse lui, podo io per lei. Lei la fortuna, io metterò il denero. E allora forse perderemo, conclusi io, sorridendo. No, no, guardi, se lei mi crede davvero così fortunato, sarò tale al gioco. In tutto il resto, no di certo. Facciamo così, senza patti fra noi, senza alcuna responsabilità da parte mia, che non voglio averne. Lei punti il suo molto dove io il mio poco. Come ha fatto oggi? E se andrà bene? Non mi lascio finire. Scoppiò in una risata strana che voleva parer maliziosa e disse, eh no, signor mio no. Oggi sì, l'ho fatto. Non lo fado domani, sicuramente. Si lei punta forte conmigo. Bien, si no, non lo fado, sicuramente, grazie tante. Lo guardai, sforzandomi di comprendere che cosa volesse dire. C'era senza dubbio in quel suo riso e in quelle sue parole un sospetto ingiurioso per me. Mi turbai e gli domandai una spiegazione. smise di ridere, ma gli rimase sul volto come l'impronta svanente di quel riso. Dico che no, che non lo fado, ripete. Non dico altro. Battei forte una mano sulla tavola e con voce alterata incalzai. Niente affatto, bisogna invece che dica. Spieghi che cosa ha inteso di significare con le sue parole e col suo riso imbecille. Io non comprendo. Lo vidi man mano che parlavo impalidire e quasi rimpicciolirsi. Evidentemente stava per chiedermi scusa. Mi alzai sdegnato dando una spallata. Ah, io disprezzo lei e il suo sospetto. Che non arrivo neanche a immaginare. Pagai il mio conto e uscii. Ho conosciuto un uomo venerando e degno anche, per le singolarissime doti dell'intelligenza, d'essere grandemente ammirato. Non lo era né poco né molto. Per un paio di calzoncini, io credo chiari, a quadretti troppo aderenti alle gambe misere, che egli si ostinava a portare. Gli abiti che indossiamo, il loro taglio, il loro colore, possono far pensare di noi le più strane cose. Ma io sentivo ora un dispetto tanto maggiore, in quanto mi pareva di non essere vestito male. Non ero in marsina, è vero, ma avevo un abito nero da lutto decentissimo. E poi, se vestito di questi stessi panni, quel tedescaccio in prima aveva potuto prendermi per un babbeo, tanto che si era raffato con niente il mio denaro, come mai adesso costui mi prendeva per un marivuolo. Sarà forse per questo barbone, pensavo, andando, o per questi capelli troppo corti. Cercavo intanto un albergo qualunque, per chiudermi a vedere quanto avevo vinto. Mi pareva ad essere pieno di denari. Ne avevo un po' dappertutto, nelle tasche della giacca e dei calzoni, e in quelle del panciotto, oro, argento, biglietti di banca. Dovevano essere molti, molti. Sentii suonare le due. Le vie erano deserte. Passò una vettura vuota, vi montai. Con niente avevo fatto circa undicimila lire. Non ne vedevo da un pezzo. E mi parvero in prima una gran somma. Ma poi, pensando alla mia vita ad un tempo, provai un grande avvilimento per me stesso. E che, due anni di biblioteca, col contorno di tutte le altre sciagure, mi avevano dunque immiserito a tal segno il cuore? Presi a mordermi col mio nuovo veleno, guardando il denaro lì sul letto. Va, uomo virtuoso, mansueto bibliotecario, va, ritorna a casa a placare con questo tesoro la vedova pescatore. Ella crederà che tu l'abbia rubato e acquisterà subito per te una grandissima stima. O va piuttosto in America, come avevi prima deliberato, se questo non ti par premio degno alla tua grossa fatica. Ora potresti, così munito, undicimila lire, che ricchezza. Raccolsi il denaro, lo buttai nel cassetto del comodino e mi coricai. Ma non potei prender sonno. Che dovevo fare, insomma? Ritornare a Monte Carlo? A restituir quella vincita straordinaria? O contentarmi di essa e godermela modestamente? Ma come? Avevo forse più animo e modo di godere, con quella famiglia che mi ero formata? Avrei vestito un po' meno poveremente mia moglie, che non solo non si curava più di piacermi, ma pareva facesse anzi di tutto per riuscirmi incresciosa, rimanendo spettinata tutto il giorno, senza busto, in ciabatte e con le vesti che le cascavano da tutte le parti. Riteneva forse che, per un marito come me, non valesse più la pena di farsi bella. Del resto, dopo il grave rischio corso nel parto, non si era più ben rimessa in salute. Quanto all'animo, di giorno in giorno si era fatta più aspra, non solo contro me, ma contro tutti. E questo rancore, e la mancanza ad un affetto vivo e vero, si erano messi come a nutrire in lei un'accidiosa pigrizia. Non si era neppure affezionata alla bambina, la cui nascita, insieme con quell'altra, morta di pochi giorni, era stata per lei una sconfitta di fronte al bel figlio maschio d'oliva, nato circa un mese dopo, florido e senza stento, dopo una gravidanza felice. Tutti quei disgusti poi, e quegli attriti che sorgono, quando il bisogno, come un gattaccio ispido e nero, s'accovaccia sulla cenere d'un focolare spento. Avevano reso ormai odiosa a entrambi la convivenza. Con undicimila lire avrei potuto rimetterla pace in casa e far rinascere l'amore già iniquamente ucciso in sul nascere dalla vedova pescatore. Follie. E dunque? Partire per l'America? Ma perché sarei andato a cercare tanto lontano la fortuna, quando essa pareva proprio che avesse voluto fermarmi qua, a Nizza, senza che io ci pensassi, davanti a quella bottega d'attrezzi di gioco? Ora bisognava che io mi mostrassi degno di lei, dei suoi favori, se veramente sembrava essa voleva accordarmeli. Via, via! O tutto o niente. In fin dei conti sarei ritornato come ero prima. Che cosa erano mai undicimila lire? Così, il giorno dopo, tornai a Monte Carlo. Ci tornai per dodici giorni di fila. Non ebbi più né modo né tempo di stupirmi allora del favore più pavoloso che straordinario della fortuna. Ero fuori di me, matto addirittura. Non ne provo stupore neanche adesso, sapendo purtroppo che tiro essa mi apparecchiava, favorendomi in quella maniera e in quella misura. In nove giorni arrivai a mettere su una somma veramente enorme, giocando alla disperata. Dopo il nono giorno cominciai a perdere e fu un precipizio. L'estro, prodigioso, come se non avesse più trovato alimento nella mia già esausta energia nervosa, venne a mancarmi. Non seppi, o meglio, non potei arrestarmi a tempo. Mi arrestai, mi riscossi, non per mia virtù, ma per la violenza di uno spettacolo orrendo, non infrequente pare in quel luogo. Entravo nelle sale da gioco, la mattina del dodicesimo giorno, quando quel signore di Lugano, innamorato del numero dodici, mi raggiunse sconvolto e ansante per annunziarmi, più col cenno che con le parole, che uno si era a poc'anzi ucciso là, nel giardino. Pensai subito che fosse quel mio spagnuolo e ne provai rimorso. Ero sicuro che egli mi aveva aiutato a vincere. Nel primo giorno, dopo quella nostra lite, non aveva voluto puntare dove io puntavo e aveva perduto sempre. Nei giorni seguenti, vedendomi vincere con tanta persistenza, aveva tentato di fare il mio gioco, ma non avevo voluto più io. E allora, come guidato per mano dalla stessa fortuna, presente e invisibile, mi ero messo a girare da un tavoliere all'altro. Da due giorni non lo avevo più veduto, proprio da che mi ero messo a perdere, e forse perché lui non mi aveva più dato la caccia. Ero certissimo, accorrendo al luogo indicatomi, di trovarlo lì, steso per terra, morto. Ma vi trovai invece quel giovinetto pallido che affettava un'aria di sonnolenta indifferenza, tirando fuori i luigi dalla tasca dei calzoni per puntarli senza nemmeno guardare. Pareva più piccolo lì in mezzo al viale, stava composto coi piedi uniti, come se si fosse messo a giacere prima, per non farsi male cadendo. Un braccio era aderente al corpo, l'altro un po' sospeso, con la mano raggrinchiata e un dito, l'indice, ancora nell'atto di tirare. Era presso a questa mano la rivoltella, più in là il cappello. Mi parve da prima che la palla gli fosse uscita dall'occhio sinistro, donde tanto sangue. Ora rappreso gli era colato sulla faccia, ma no, quel sangue era schizzato di lì come un po' dalle narici e dagli orecchi. Altro, in gran copia, ne era poi sgorgato dal forellino alla tempia destra, sull'arena gialla del viale, tutto raggrumato. Una dozzina di vespe vi ronzavano attorno. Qualcuno andava a posarsi anche lì, vorace su quell'occhio. Fra tanti che guardavano, nessuno aveva pensato a cacciarle via. Trassi dalla tasca un fazzoletto e lo stesi su quel misero volto orribilmente sfigurato. Nessuno me ne seppe grado. Avevo tolto il meglio dello spettacolo. Scappai via, ritornai a Nizza per partirmene quel giorno stesso. Avevo con me circa 82.000 lire. Tutto potevo immaginare, tranne che nella sera di quello stesso giorno dovesse accadere anche a me qualcosa di simile.